8 persone sono morte in un incendio in un edificio nella città russa di Friasino alle porte di Mosca. Oltre 100 vigili del fuoco sono stati impiegati per spegnere l'incendio che ha distrutto parte del palazzo e lo ha avvolto in una densa nuvola di fumo. Alcune strutture interne sono crollate. Si trattava di un edificio ad 8 piani adibito all'uso ufficio. La causa dell'incendio non è ancora nota. Grazie a tutti.